Ciao e benvenuti in quest'ultima puntata della miniserie Il Mindset Vincente. In questa sessione vediamo una delle cose più importanti da imparare nella propria vita per avere successo in qualunque ambito, ovvero il valore del tuo tempo. Iniziamo a capire una cosa importantissima sul tempo, innanzitutto non c'è moneta, non c'è banconota, non c'è esperienza e soprattutto non c'è tenore stile di vita che può valere quanto il tuo tempo. Qualunque cosa tu faccia l'unica cosa che non puoi riprendere è il tempo che sta trascorrendo. Persino adesso che sto parlando se ci pensi bene sta trascorrendo il tempo della mia vita e anche della tua vita. Quindi la cosa importantissima da comprendere è che il tempo è una moneta preziosa per arrivare a quelli che sono i tuoi obiettivi. Cosa importantissima che abbiamo visto anche nei video scorsi è riuscire non solamente a dare importanza al proprio tempo ma riuscire a organizzare al meglio il tempo in modo tale da metterci il minor tempo possibile per ottenere il più possibile dalla tua vita. E questo non soltanto riguardo a un'attività. Un obiettivo nella vita può essere a 360 gradi come vedevamo anche nei video precedenti a questo. Quindi fondamentalmente è veramente incredibile come nel momento in cui ti stai organizzando la giornata, giorno dopo giorno ovviamente per arrivare al tuo obiettivo, incredibilmente come avere delle abitudini positive, come andare a incrementare giorno per giorno quella che è la tua persona magari leggendo, predisponendoti in avanti, facendoti una cultura su quello che vuoi raggiungere a livello personale. E fondamentalmente circondandoti di persone che sono positive e propositive per ottenere i tuoi obiettivi, tutto questo non solo è raggiungibile ma è raggiungibile in tempi molto più brevi. Se non hai avuto modo di vedere i video prima di questo il mio consiglio è oltre a vedere questo video di andare a vedere anche quelli precedenti perché si va a trattare veramente bene ognuno di questi aspetti e sono ognuno più fondamentale dell'altro perché la cosa che ti fa raggiungere un obiettivo alla fine come vediamo anche dal nome di questa sessione è il mindset e una volta che tu hai compreso come sviluppare al meglio quello che è il tuo tempo già hai metà della strada fatta perché quello che ti rendi conto è che per raggiungere il tuo obiettivo facendolo in tanti piccoli step sai già cosa devi fare poi giorno per giorno. Il tempo tra l'altro non è soltanto un qualcosa che ti serve per raggiungere un obiettivo nella tua vita, il tempo è un modo per valutare quanto tempo rimane alla tua vita per renderla una vita strepitosa o una vita infernale. Sei tu a scegliere e sei tu a scegliere sempre. Non ci sono scuse del eh ma è successo questo, eh ma è successo quello. Se guardi la maggioranza delle persone che nella vita hanno raggiunto successo sono tutte persone che hanno pagato pegno da qualche parte, anzi la maggioranza di queste persone sono persone che quando hanno iniziato nella loro vita hanno avuto subito dei traumi molto grandi. Quindi fondamentalmente una cosa che posso consigliarti in questo video come in tutti gli altri in realtà è di non comprare né le tue scuse né quella delle persone vicino a te. Devi perseguire il tuo obiettivo e questo serve perché devi dare rispetto alla tua persona e soprattutto come dicevo prima al tuo tempo. Il tuo tempo tra l'altro se tu ci pensi bene quando noi arriveremo alla fine della nostra vita, questo l'ho già detto anche appunto in alcuni dei video precedenti, l'unica cosa che fondamentalmente sarà veramente difficile e sarà veramente doloroso da guardare saranno le cose nella tua vita che non hai fatto, non quelle che hai fatto e magari sbagliato per aver fatto un'esperienza che magari ti sei reso conto dopo che non era quella giusta, ma sono le cose che non hai fatto ad aver fatto la vera differenza e per fare tutte le cose non solamente ci vuole tempo ma ci vuole forza di volontà, ci vuole denaro, ci vuole energia e sono tutte cose che non in tutte le fasi della tua vita probabilmente ti capiterà di avere. Quindi è veramente importante dedicarsi a un ramo specifico alla volta per migliorare la tua vita a 360 gradi. Questo ti permetterà non solo di goderti una vita al top ma di goderti delle giornate al top, di poter aiutare anche altre persone a fare questo e questo è un qualcosa a mio parere di impagabile, penso sarei d'accordo con me. Quindi questa era un po' una sessione legata all'importanza del tempo, mi auguro che ti sia piaciuta questa sessione e tutta quella che è stata la nostra playlist legata al mindset vincente. Se non hai avuto modo, come dicevo prima, di vedere dei video di questa sessione o di questa comunque miniserie, ti consiglio di vederne anche altri perché possono esserti utili per costruire dei piccoli passaggi step by step per arrivare mano a mano a quello che è il tuo obiettivo finale, il tuo risultato. Per potenziare tutto questo ti lascio un link in descrizione dove potrai prendere con me, Mattia o un membro del nostro staff, quello che è una sessione strategica gratuita dove oltre a conoscerci meglio ovviamente andremo a vedere la tua situazione, come espanderla nel più breve tempo possibile arrivare ai tuoi risultati. Perciò oltre a dirti questo concludo dicendo che se ti è piaciuto questo video lascia un like, supporta il canale, noi ci vediamo in altri video sul nostro canale ovviamente Digitals e ci vediamo in un altro video. Ciao!